Quello che molti cittadini della zona ci avevano richiesto e inserito nel programma della manutenzione ordinaria e straordinaria dei nostri parchi all'interno del nostro comune e della nostra città. Per quanto riguarda questo parco, il parco Ducci, abbiamo portato avanti un intervento molto importante perché abbiamo installato numerosi giochi, tra l'altro anche inclusivi, quindi daranno la possibilità anche a tutti, a bambini che potranno usufruirne, partendo da quella che è l'età prescolare, quindi fino a 6 anni, poi dopo passando a un'area che va nell'età fino ai 10 anni per finire in un'area giochi per ragazzi un pochino più grandi e quindi arrivare a 15 anni. Abbiamo inoltre a questo portato avanti la manutenzione di quello che sono tutti gli arredi, quindi diciamo che abbiamo portato avanti una manutenzione proprio straordinaria con un investimento importante. Sappiamo bene quanto dopo questo periodo di Covid e quindi di chiusure, quanto sia importante stare all'aperto soprattutto per i nostri ragazzi e questa è una prima risposta che diamo in un'area importante della nostra città e quindi siamo riusciti finalmente a sistemarlo dando un nuovo spazio ai nostri ragazzi. È previsto nell'idea dell'assessore di occuparsi anche di altre aree verdi in futuro? Assolutamente sì, stiamo in questo momento proprio portando avanti due serie di interventi, una che riguarda quelli dei giochi all'interno delle scuole in cui stiamo sostituendo tutti quelli che sono i giochi più vetusti e andando a inserirne dei nuovi e un'altra parte del programma che sta portando avanti l'ufficio verde è quella della riqualificazione di alcune zone, una fra tutte anche quella del parchino di San Donato e l'inserimento anche di nuovi giochi e quindi nuove aree con attrezzature proprio per i ragazzi più giovani in maniera tale da dare nuovi spazi appunto a quello che è lo spazio all'esterno per i grandi ma anche per i ragazzi che potranno usufruirne in autonomia.